per fare la mascherina chirurgica mi serviranno allora un righello da patchwork un paio di forbici da carta un metro diciamo di questo tipo qua un metro invece a nastro una gomma e una matita per prima cosa in modo tale che ci costruiamo il cartamodello il cartamodello sarà 19 per 21 come stoffa ho scelto questa che è un tessuto di cotone 100 per cento che avevo in casa che non è né troppo rigida né troppo morbida poi mi servono due elastici potete usarli o così piatti oppure tubolari che sono lunghi 22 cm poi vi servirà delle forbici da taglio delle clip in questo modo che trovate tranquillamente o su amazon oppure la potete comprare anche su aliexpress che sono delle spilline che ci aiutano invece di mettere gli spilli in certe occasioni possiamo ammettere semplicemente queste queste spilline e poi degli spilli da patchwork io uso questi che sono carinissimi a forma di bottone metto il cartamodello nel doppio della stoffa in modo tale che poi avrò due rettangoli in questo modo me li sfisso con gli spilli e poi li taglio con le forbici mi devo segnare poi 1,5 partendo dal lato dei 21 cm che sarebbero questi qua devo segnarmi 1,5 1,5 1,5 e 1,5 dopodiché devo prendere gli elastici e posizionarli verso l'interno quindi facendo combaciare questo e poi qui posizionandoli in questa maniera quindi con l'aiuto delle mie pinzette mi posiziono in questo modo poi sovrappongo il dritto con il dritto quindi l'altra parte che mi sono segnata se l'altra parte mi sono ricavata di tessuto lo metto sopra in questo modo e mi segno tutto mi fisso tutto con le mie mollette ed ecco qui ho messo tutte le mie pinzette e ho lasciato una parte aperta qui di 6 centimetri circa e adesso vado in macchina da cucire e mi cucio tutta la circonferenza con un punto dritto lasciando aperta solo questa parte qua dei 6 cm eventualmente potete mettere anche tutti gli spilli invece di utilizzare le clip possiamo utilizzare anche gli spilli quindi bloccando anche gli elastici sempre con gli spili ho utilizzato questi spili molto piccoli bloccando anche gli elastici vedete io qua qua ci sono gli elastici li ho bloccati con lo spillo e ho lasciato sempre la parte aperta ovviamente perché dovrò rivoltare il tutto quindi ecco qua vedete quindi potete anche mettere gli spilli e secondo me con gli spilli e anche più preciso dopo che ho passato tutto a macchina con un punto dritto cosa faccio allora quando ho passato a macchina o ribattuto più volte la parte dell'elastico in modo tale da quindi sono andate indietro avanti e indietro avanti in modo tale da bloccarmi bene l'elastico che si trova all'interno poi intacco le punte e in modo tale che rivoltandolo venga meglio in questo modo qui vedete ho tagliato in questo modo la cucitura anche dalle altre parti così come vedete nel video e poi rivolto la mia mascherina ho fatto uso di questo attrezzo che sembra una stupidaggine ma comunque a parte che è troppo bellino perché può serve per tirare indietro cioè verso l'esterno e le punte ecco qua è molto molto utile dopodiché devo stirare stiro la mia mascherina in modo tale da appiattire bene tutti i margini anche la parte che ho lasciato aperta che è questa eccola qui la stiro per bene stiro bene la mia mascherina appiattendo bene 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 i margini in questo modo ecco qua questo è quello che è rimasto aperto e adesso devo andare in macchina da cucire e impunturare tutto la mia mascherina in tutta la circonferenza il perimetro ecco qua ed ecco qui dopodiché devo prendermi le misure del diciamo delle parti che dovrò rigirare con la matita mi segno tutte le tacche e inizio a rigirare aiutandomi con degli spilli da patchwork partendo dall'alto quindi abbiamo tre centimetri tre centimetri tre centimetri tre centimetri tre centimetri un centimetro un centimetro tre centimetri e tre centimetri e tre centimetri adesso andiamo a piegare facendo coincidere un diciamo facendo delle pieghe facendo coincidere uno spillo con l'altro ve lo faccio vedere passo passo uno l'ho piegato adesso piego parto da questo e lo piego ho piegato l'altro quindi così adesso poi piego questo da questa parte quindi così dopo che ho fatto tutte rigirato il tutto naturalmente dipende anche dalla vostro viso perché ci sono i visi più piccoli visi più grandi quindi diciamo che le mie misure sono approssimative poi prendete le misure a seconda del vostro viso devo passare a macchina nuovamente tutta la circonferenza quindi tutto tutta la mia mascherina andando a ribattere in maniera più sostenuta diciamo nella parte dove ci sono gli elastici in modo tale da tenerli belli stretti ed ecco qui le mascherine terminate questa parte come vedete è più ampia l'ho lasciata più ampia per 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 il naso diciamo così comunque si possono aprire vedete si aprono e quindi sono adattabili alla al viso di ciascuno per essere sterilizzate vanno fatte bollire per almeno 15 minuti ed ecco qui le nostre mascherine pronte ed eccola qui terminata anche la lunghezza degli elastici ovviamente prendeteli sulla persona più o meno facilissima da fare veramente facile sapete un minimo utilizzare la macchina da cucire vi verrà benissimo io spero che questo video vi sia utile vi ricordo che questo tipo di mascherine non vi proteggerà al cento per cento dal virus io come vi ho detto anche nell'altro video li utilizzerò per la polvere perché io non posso uscire purtroppo in questi giorni perché per nessun motivo neanche per fare la spesa perché sono un soggetto a rischio asmatica cronica e però se volete utilizzarle per uscire per essere più tranquilli a vostro rischio e piccolo io non mi prendo nessuna responsabilità se doveste insomma stare male comunque vi servirà per per non infettare gli altri con la saliva dato che non si trova non da nessuna parte tra l'altro in sardegna sono arrivate delle mascherine tantissime le hanno rubate quindi cosa volete che vi dica l'unica cosa che possiamo fare è anche per sentirci psicologicamente più tranquilli farcele da soli ovviamente ogni volta che le usate dovete bollirle a 90 gradi per disinfettarle in mancanza d'altro dato che ci sono sono arrivati anche i ladri a creare una situazione del genere qua in sardegna non ci resta che farceli da sole oppure potete usare una sciarpa però volendo fare questo tipo di mascherina questo è il procedimento spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mettete un bel like e condividete i miei video nei vostri social mi raccomando le condivisioni sono molto importanti grazie e andrà tutto bene